Puntano a cambiare il volto della città e dei borghi i primi interventi presentati ieri in piazza Montania Ginestreto, che fanno parte del pacchetto di progetti presentati dal Comune di Pesaro e promossi dal Ministero per le Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per il Bando Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Dei 45 milioni di euro complessivi, che comprendono quindi anche le riqualificazioni previste per il San Benedetto e il Centro Storico nell'asse via Passeri via Castelfidardo, 15 milioni saranno destinati alla rigenerazione urbana dei borghi e delle colline pesaresi. Proprio Ginestreto, uno dei luoghi simbolo del piano di interventi, vedrà nascere un nuovo edificio panoramico che incrementerà gli alloggi di edilizia residenziale, destinando invece al piano terra i servizi di comunità. Tra gli altri interventi anche la riqualificazione delle vecchie sedi di circolo, scuola e comune. Riqualificazioni in programma anche per il Giardino di Pomerio delle Mura di Cinta a Novilara, con l'aggiunta di un nuovo tratto ciclopedonale e il ripristino della scalinata d'ingresso. A Monte Cicardo, 340 metri quadrati del piano terra del conventino saranno destinati a servizi culturali e a residenze per artisti. Mentre a Santa Maria dell'Arzilla, il Foro Buario diventerà un parco pubblico e l'ex edificio scolastico ospiterà una biblioteca e alloggi di edilizia sociale. Interventi in programma anche per Candelara e Fiorenzuola di Focara, mentre l'obiettivo dell'extrapolitana è quello di migliorare l'accessibilità ai quartieri più periferici della città attraverso l'implementazione della mobilità sostenibile già sviluppata in pianura, collegando quindi la bici politana alle direttrici territoriali storiche, come la strada verso Urbino e Lungolfoglia o quella verso Novilara. Sono 15 milioni di euro già finanziati, a settembre arriverà l'anticipo del 5% per la progettazione e riguarda molti borghi della nostra città. Siamo qui a Ginestretto che vedrà l'intervento principale di 3-4 milioni, Montecicardo, Candelara, Novilara, quindi sono tanti borghi della nostra città che verranno trasformati grazie a questo bando che tiene insieme nuove abitazioni, quindi l'esigenza dell'abitare e il tempo stesso investimenti sulla cultura. Sono borghi, soprattutto Ginestretto, che ha bisogno di interventi da tanto tempo, altri borghi hanno avuto già altri interventi, penso a Candelara, Novilara, però ce n'è sempre tanto bisogno ed è anche molto importante per Montecicardo perché da poco è comune di Pesaro e veramente in quella parte di territorio si stanno facendo tantissime cose. La prossima primavera lo Stato vuole il progetto definitivo per andare a gara e quindi dobbiamo adesso correre, fare il prima possibile, ci vorrà qualche anno per realizzare i lavori, però i soldi ci sono, la volontà è uguale, quindi è solo questione di tempo e speriamo di ridurlo il più possibile. Dobbiamo sempre pensare che ci si muove su un'idea matrice che collega Pesaro ai borghi, quindi sostanzialmente il progetto è un tutt'uno e vede sinteticamente, se lo vogliamo definire così, una città metropolitana che cresce, una città metropolitana che sostanzialmente è la Pesaro che conosciamo, quella tra il San Bartolo e l'Ardizio, che fa dei borghi dei propri quartieri sostanzialmente, non saranno più borghi accastellati che appartengono al sistema collina piuttosto che campagna, ma saranno dei veri quartieri di Pesaro attraverso un sistema di mobilità sostenibile che viene integrato, che viene in qualche modo completato e sviluppato attraverso un sistema intelligente di parcheggi scambiatori, di tutta una serie di accorgimenti e vede appunto la riqualificazione dei borghi attraverso una sorta di iniezione di energia data dalla localizzazione, costruzione e creazione di luoghi residenziali per giovani o comunque per categorie fragili, definite in questo modo grigie sostanzialmente.